Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con AMTG. La fontana di Piazza Tacito torna ad essere preda di sporcizia e rifiuti di vario tipo. Le immagini che abbiamo registrato ieri sera testimoniano anche la presenza di un pallone all'interno della vasca. Vediamo il servizio. Rami di dubbio a provenienza, sporcizia di vario genere e addirittura un pallone che rotola in moto perpetuo spinto dalla corrente. Stiamo forse parlando di un torrente della periferia di Terni? Purtroppo no. Questo emporio di immondizia si trova all'interno della fontana di Piazza Tacito. È ancora una volta un segnale di inciviltà da parte dei cittadini che invece di valorizzare e tenere da conto un simbolo importante e faticosamente riconquistato dopo anni come quello della fontana dello Zodiaco, lo degradano senza troppi scrupoli. E così, l'illuminazione serale, invece di far brillare i mosaici in tutto il loro splendore, fa luce sui rifiuti. Non è la prima volta che all'interno della fontana si trovano addirittura i palloni, tanto che anche la precedente amministrazione, nel lontano febbraio 2022, aveva dovuto raccoglierne diversi caduti all'interno della vasca. È un peccato vedere l'incuria con cui viene trattato un monumento il cui restauro è costato al comune di Terni 2 milioni e mezzo di euro. Forse tutti questi episodi di inciviltà che testimoniano la totale mancanza di senso civico dei ternani sono la prova che abbiamo delle opere d'arte, degli spazi verdi e dei monumenti che non meritiamo. Verde infestante e un fondo stradale irregolare. Sono soltanto alcuni dei problemi che si registrano in via Liut Prando e via Papa Giovanni XXIII. Problemi che il gruppo consigliare del PD ha deciso di portare all'attenzione della giunta comunale. Le immagini e le interviste nel servizio. Via Liut Prando e via Papa Giovanni XXIII siamo nel quartiere di San Giovanni, prima periferia di Terni. Qui, come dimostrano le nostre immagini, il verde incolto e un fondo stradale dissestato sono finite all'attenzione del gruppo consigliare del PD che ha deciso di presentare un'interrogazione alla sindaco e alla giunta. I cittadini ci hanno interessato di una situazione allarmante dal punto di vista del dissesto stradale, della mancanza della segnaletica, della vegetazione ai bordi stradali che andrebbe manutenuta. Abbiamo inteso fare sia per via Liut Prando sia per via Giovanni XXIII un'interrogazione all'attenzione del sindaco e degli assessori competenti affinché queste problematiche si possano risolvere sia nella parte principale di entrambe le strade sia nella parte interna. Tra l'altro queste sono due vie che, se vogliamo, da sempre hanno problemi. Sì, il problema del dissesto stradale e anche della mancanza della segnaletica e della vegetazione a bordo stradale è un problema che sussiste ormai da anni sia nella parte principale sia nella parte più interna comunque di competenza comunale. E noi crediamo che debba essere risolto quanto prima. È stata ritrovata senza vita all'interno della propria abitazione in via Filippo Turati a Terni, una 74enne originaria di Spoleto. Il decesso, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe dovuto a un'intossicazione da psicofarmaci con conseguente emorragia gastrica. Sulla vicenda indagano le autorità giudiziarie di Terni. Due cittadine iraniane che volevano imbarcarsi su un aereo per Londra sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Perugia presso l'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi per aver falsificato le proprie carte di identità. Nel corso dei controlli previsti nell'area check-in, le forze dell'ordine hanno riscontrato alcune anomalie nei documenti che si sono rivelati non conformi ai normali sistemi di microchip. I documenti anomali sono stati sequestrati. Le due donne sono state arrestate per il reato di possesso e di fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di demora nel territorio del comune di Perugia per entrambe le indagate. Chiuse da parte della Procura della Repubblica le indagini sull'assicuratore Ternano accusato di aver raggirato tramite polizze decennali alcuni clienti che avevano visto sparire tutti i loro risparmi. Per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. L'uomo è ora accusato di truffa e appropriazione in debita aggravata. Ecco il servizio. Ricordate la storia dell'assicuratore Ternano accusato di aver raggirato tramite polizze decennali alcuni clienti che avevano visto sparire tutti i loro risparmi per una cifra totale vicina ai 5 milioni di euro? Bene, sul caso la Guardia di Finanza di Terni ha chiuso le indagini. Dai particolari del fascicolo, ora nelle mani del PM Marco Stramaglia, è emerso che il broker Ternano operava anche fuori Terni, nello specifico a Padova, dove altri tre clienti, documenti alla mano, hanno provato come al Ternano avessero affidato nel tempo una cifra complessiva pari a 1 milione e 600 mila euro. L'ipotesi del reato nei confronti dell'uomo sono ora quelli di truffa e appropriazione in debita aggravata. L'assicuratore è stato interrogato dagli inquirenti ma ha fatto scena muta, accusando problemi di memoria dopo l'incidente che lo ha visto convolto il 6 aprile dello scorso anno, quando la guida di una potente Audi A6 si è schiantato contro un albero lungo la strada che collega Narni a San Gemini, incidente dopo il quale il Tribunale di Terni lo ha affidato ad un amministratore di sostegno. Le indagini non hanno al momento permesso di trovare traccia dei soldi, perché il broker è risultato nullatenente, con i conti correnti bancari in rosso e tutte le sue case di proprietà, tre tra Terni e Nere Marche, ipotecate da tempo. I risparmiatori che nel tempo sono caduti nella sua rete sono una ventina, di questi la maggior parte sono stati però risarciti. Il modus operandi del broker era quasi sempre lo stesso, aprire una polizza a lungo termine con il capitale garantito. La prima parte risultava regolare, con i soldi versati che andavano alla casa madre, ma i seguenti bonifici venivano fatti fare dai suoi clienti nel conto corrente intestato all'agenzia chiusa dell'assicuratore e non alimentavano l'investimento voluto, ma probabilmente le tasche dell'uomo. Ha patteggiato due anni di reclusione il 25enne albanese che lo scorso giugno era stato arrestato dai carabinieri per spaccio di stupefacenti, dopo che i militari lo avevano sorpreso in flagranza di reato, mentre cedeva una dose di cocaina a un altro straniero. Durante i controlli le forze dell'ordine avevano trovato 16 dosi di droga nascoste all'interno di una sigaretta elettronica e durante la perquisizione domiciliare ne erano venute fuori altre 72 destinate allo spaccio. Il giudice, contestualmente alla sentenza, ha disposto la sospensione immediata della pena a carico dell'imputato. I carabinieri di Gubbio hanno denunciato una donna di 30 anni per aver rapinato un anziano presso il mercato settimanale della città dei Ceri. Mentre passeggiava, l'uomo è stato raggiunto da una donna che gli si è avvicinata con una scusa. Approfittando di un momento di distrazione, la donna, con violenza, ha afferrato la collana in oro che l'uomo indossava al collo, cercando in tutti i modi di portargli la via. Immediata la reazione dell'anziano. A seguito della collutazione, la donna è riuscita a fuggire con il crocifisso della collana d'oro della vittima. L'anziano ha contattato i carabinieri ed è riuscito fortunatamente a descrivere la donna e il suo abbigliamento. I militari dell'arma, acquisita la descrizione della rapinatrice, hanno ben presto individuato la donna che è stata fermata e denunciata. Dall'11 ottobre al via la campagna di vaccinazione anti-influenzale in Umbria. A M Terni Television è andata a sentire cosa ne pensano i ternani e se sono pro o contro la somministrazione del vaccino. Ecco il servizio. Che ne pensa, signora, del vaccino anti-influenzale? Sì o no? No, assolutamente no. O meglio, no per chi non ha la necessità clinica. Quindi chi non ha problematiche cliniche di esposizione, non vedo la necessità. Siamo dotati di anticorpi, naturalmente, quindi non vedo perché ci può decidere. Ritiene che sia una misura superflua? Esagerata. Quindi superflua per chi non ha la necessità, sì. Io sono stato consigliato dal mio medico per le mie condizioni da farlo. Dunque sono quattro anni che lo faccio e anche quest'anno se tanto mi accinca a farlo. Pensa che quindi porta a beneficio e ha notato un miglioramento a seguito della somministrazione? Ma io l'ho fatto per uso preventivo, dunque non so se mi ha migliorato o non mi ha migliorato, l'ho fatto, ecco qua, sul consiglio del medico. Ho sentito per televisione che sarebbero arrivati i primi giorni della settimana, per cui la mia dottoressa che ha tutto nell'enco, che ha tutti i clienti suoi, eccetera, eccetera, mi chiamerà e mi dice di venire a fare. Io lo faccio da, sono dieci anni che faccio, da quando ho raggiunto la fragilità della persona, anche perché i miei 81 anni si dovrebbero vedere, no? Io l'antinfluenzale, anche se mi ha colpito qualche volta, ma leggermente con il raffreddore, con qualche mal di gola, ma non con un'influenza vera e propria. Sono importanti e servono per migliorare la nostra qualità della vita, quindi tecnicamente io sono favorevole. Non ho patologie, fortunatamente non ho nessun tipo di patologie e quindi non andrò a farlo, non lo farò, però è una cosa importante che va fatta e che tecnicamente auspico e spero che chi invece ha problemi si vaccini, perché la vaccinazione è importante, serve a salvare noi e a salvare anche chi ci guarda e chi ci osserva e i nostri familiari. Penso che sia utile, che gli è utile. Benvenga per chi lo fa, e io, me che sta bene così. Antifluenzale sì, il de-covid non mi faccio mai più. Hai capito? Non ho problemi? Sì, sì. Mi sentito male, mai più. Così venga il virus, venga lo che venga, quelli non me lo faccio mai. Dano Masala e Desiderio Sanzi sono i due artisti protagonisti della quinta edizione di Gemellarte. A Terni, il murales che realizzerà il francese Masala, andrà a rivalorizzare l'area dell'ex opificio Siri, il Vernissage è fissato per sabato 21 ottobre. Ecco il servizio. Tornano i colori di Gemellarte, il festival indipendente di arte contemporanea, giunto alla sua quinta edizione. Dal 10 al 20 ottobre, alvia la residenza artistica dell'artista francese, Dano Masala, che realizzerà il murales nell'area dell'ex opificio Siri, attuale sede del Museo Chaos, e quella dell'artista ternano Desiderio Sanzi, a Santo Uen. Il tema della gioia deriva dal, ovviamente, l'estro e la creatività del nostro direttore artistico Chiara Ronchini, che quest'anno ha voluto focalizzare l'attenzione sull'arte allo stato puro. Quindi la gioia che viene espressa e manifestata dall'arte e dalla creatività. Quindi, diciamo, è stata una colla aperta agli artisti a esprimersi proprio nella loro creazione del bello, del donare il bello nelle città, che poi è l'essenza vera di Gemellarte. Il luogo, quindi la zona perimetrale dell'ex opificio Siri, è stato selezionato insieme all'amministrazione comunale di Terni, perché quell'area urbana è oggetto, è stata oggetto già negli anni di una riqualificazione, che viene così, diciamo, completata ed esaltata dalla creazione di questa opera d'arte, perché la casa, l'ex foresteria, che è proprio questo edificio, che è stato appena restaurato dal comune di Terni, viene adesso appunto arricchito, impreziosito da quest'opera d'arte, l'artista Dano Masalà. Le date, come al solito, sono due, duplici. Sul fronte francese, dove sta operando, in questi giorni, l'artista ternano Desiderio, il vernissage sarà venerdì 13 ottobre, quando verrà inaugurata l'opera, mentre a Terni la residenza inizia di fatto oggi, come di 9 ottobre, e culminerà sabato 21, con l'inaugurazione al mattino dell'opera. Prosegue la rassegna degustazioni musicali presso il Museo Caos di Terni. Il 13 ottobre si esibirà, presso la sala Carroponte e lo Studio 1, la cantante e produttrice canadese, Nada El Shadzli. L'artista metterà in scena le sue esibizioni impavide, con la sua volontà di esplorare continuamente nuove frontiere sonore e armoniche, partendo dalla musica elettronica. Durante la serata, sarà possibile accedere anche alla mostra in corso, su David Bowie e Steve Shapiro. L'obiettivo è di quelli nobili, salvare la vita a più persone possibili. Per questo motivo, l'Associazione Più Umanità porta avanti il progetto Squadra per la Vita, presentandolo ai docenti dell'Istituto Casa Grande. Vediamo il servizio. La Squadra per la Vita è stata presentata dall'Associazione Temporanea di Scopo Più Umanità ai docenti delle scuole statali del territorio provinciale riuniti all'Istituto Casa Grande di Terni. La Squadra per la Vita è già una realtà che, partita da alcune scuole del Ternano e del Perugino, si estende ora all'intero territorio regionale, perseguendo due distinti, ma sinergici, obiettivi. Quello di promuovere tra i giovani la cultura, del volontariato e dell'impegno e quello di poter salvare la vita a tante persone. Solo in Italia sono 60.000 all'anno a morire per l'arresto cardiaco improvviso, ma ben l'80% potrebbe salvarsi con un intervento tempestivo e adeguato. Basta intervenire subito ed effettuare il massaggio cardiopolmonare e attivare un defibrillatore semiautomatico. Tale capacità va diffusa soprattutto partendo dai ragazzi, che vanno incoraggiati invece all'impegno e a un marcato senso civico. L'obiettivo è sensibilizzare l'intera comunità regionale, a cominciare dagli studenti, sull'importanza di una cultura del pronto intervento in situazioni di arresto cardiaco improvviso, promuovendo la loro partecipazione attiva nella costruzione di una società consapevole e responsabile. Il progetto si sviluppa attraverso diverse fasi. Si parte dalla formazione online tramite un'area riservata dedicata a ciascuna scuola. I video potranno essere visionati visionati singolarmente o in gruppo, senza vincoli orari. Al termine dei video c'è il test di verifica sulle conoscenze apprese. Segue la formazione in presenza. Gli studenti e il personale che hanno completato la formazione teorica e superato il test potranno partecipare all'esercitazione pratica. Quindi le scuole partecipanti riceveranno in dotazione un kit contenente un manichino e un defibrillatore trainer. Consentirà agli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite coinvolgendo almeno 30 persone tra amici e parenti. In tal modo, adottando il metodo della catena di Sant'Antonio, si riescono a coinvolgere 30.000 persone all'anno. Poi è previsto il passaporto per la vita, un documento personale dove è certificato l'impegno di ciascun ragazzo. Questo passaporto potrà essere utilizzato anche per ottenere crediti formativi secondo il regolamento scolastico. In programma anche il concorso video per la vita. Le scuole hanno la possibilità di partecipare al concorso realizzando un video che promuova la necessità di sapere effettuare un intervento tempestivo e adeguato in caso di arresto cardiaco improvviso. Chiudiamo qui la prima parte del nostro telegiornale ma torniamo subito dopo la pubblicità con lo sport. A tra poco. Grazie a tutti i nostri amici.